ebbene sì qualcuno ha deciso di unire le due creature criptozoologiche in un unico film ovvero il bigfoot ed il wendigo ad avere questa idea è stata bruce wampel del quale possiamo vedere un trailer ufficiale ed anche un poster verrà però distribuito in dvd e in digitale dal 6 aprile ma di cosa parlerà a lungometraggio un gruppo di studenti intenzionati a vedere il bigfoot si addentrano in un'area selvaggia degli stati uniti scoprono di non essere da soli verranno infatti notati dai wendigo al tempo stesso però anche bigfoot sembra fare la sua comparsa un film che sembra avere del potenziale visto che regista ha già realizzato monstruos film con il bigfoot non ci resta quindi che aspettare di vederlo e sarò lieto di esporvi le mie opinioni appena lo recupererò attrazione attrazione attrazione